Le idee per la seconda parte di 2020 già ci sono, eppure tante. Una festa, ma diversa dal solito, dedicata all'olio, eventi per capire meglio cosa sia stato effettivamente il Medioevo e le escursioni, in città e non solo. Dopo la passeggiata nella Lama Balice, la Proloco Bitontina ha fatto il punto su quello che si vorrebbe realizzare nei prossimi mesi. Stiamo cercando di dare dei contenuti nuovi, diversi, per dare un nuovo vigore sia alla Proloco stesso che al suo inserimento nel territorio della città. Parlare di futuro vuol dire anche parlare del passato e da quello che si è fatto l'anno scorso. E qui l'elenco è cospicuo e comprende il baratto dei giocattoli, la grasta sulla terrazza, che torna anche questa volta, la mostra dei presepi e quella sull'Arte Sacra. E tanto altro. Tutto nonostante si sia ancora senza una sede dopo oltre un anno di attività. Idee, si diceva in principio. Una di queste è ricordare chi è stato in prima linea con il Covid-19. Si era pensato, magari se riuscissimo, di individuare tutti i medici e gli infermieri o tutti coloro che hanno collaborato negli ambienti Covid, bitontini che lavorano fuori, ma richiamarli così per una serata e brindare insieme e ringraziarli per tutto il lavoro e il sacrificio che hanno compiuto in questo periodo.